Furto in diretta tv, infatti il colpo messo a segno a Sant'Asegno nel giorno di Pasquetta è stato interamente ripreso da alcune telecamere. Il colpo è avvenuto in pieno centro cittadino ed è avvenuto in pieno giorno. Uno giovane con una evidente felpa arancione è riuscito a trafugare da un'automobile una borsa, mentre la proprietaria si trova dall'altro lato del veicolo. Il tutto è stato appunto ripreso dalle telecamere di videoserveglianza della zona. Le immagini in cui chiaramente si vede sia il volto del ladro che la targa del veicolo che è autorizzato per la fuga sono state consegnate ai carabinieri della stazione di Polla che prontamente sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini. Dal video si nota come il giovane abbia parcheggiato nei pressi del veicolo della donna aspettando il momento provvizio per poter portare via la borsa in pochi istanti con fare furtivo appunto. È riuscito a impadronirsi della borsa e a fuggire via in seguito da alcuni passanti ha fatto perdere le proprie tracce. La targa dell'auto sembra essere legata a un'attività di noleggio quindi l'ipotesi è che il giovane sia arrivato nel Vallo di Diano da fuori dal territorio per poter mettere a segno colpi del genere.